Ciao a tutti e benvenuti su MTP Test Central, vi parliamo oggi delle nostre impressioni di guida della BH X-Step Lynx 5.5 Pro S. Per un peso del biker di 78 kg abbiamo regolato la forcella Fox 36 Float Rhythm a 90 PSI e 7 click di rebound tutto chiuso, mentre l'ammortizzatore Fox Float DPS Performance a 190 PSI e 7 click. Le gomme Maxxis da 2.8 di sezione sono state gonfiate a 1.2 bar l'anteriore e 1.3 la posteriore. La geometria della nostra BH X-Step che è in taglia M si caratterizza per quote che la rendono molto maneggevole, sono fra l'altro molto simili a quelle che abbiamo rilevato sulla TOC, il bike che ci ha infatti positivamente impressionato per lo stesso motivo, la notevole agilità. L'angolo di sterzo si attesta a 67 gradi, quello di sella a 75, il passo è di 1185 mm, il carro 450, il movimento centrale è a 338 mm da terra e il reach misura a 425 mm. Si tratta di numeri che mettono subito a proprio agio il biker, perfettamente in linea con mountain bike non assistite della stessa categoria. In salita ci si trova in un'attiva posizione grazie all'angolo sella abbastanza verticale e con le sospensioni che si muovono appena sotto la spinta dei pedali, ma in modo non fastidioso, anzi rendono la bici molto confortevole. In questo chiaramente i bike ci aiutano molto perché la spinta aggiuntiva del motore rende meno percettibili eventuali cali di efficienza nella pedalata dovuti alla sospensione che dondola un po'. L'ottimo lavoro delle sospensioni e le grandi gomme 27.5 Plasta 2.8 di sezione fanno avanzare la BH X-Step con decisione e nel massimo comfort. Anche affrontare tratti tecnici o tortuosi in salita è fonte di grande soddisfazione perché la bici ha più che sufficiente trazione e una notevole agilità per girare in poco spazio. Il motore Shimano Steps 8000 è uno dei più piacevoli e naturali nell'erogazione della potenza. L'ultimo aggiornamento 470 lo rende completamente personalizzabile in tutte e tre le modalità. La Trail, cioè quella intermedia ad assistenza variabile, è molto adatta alla guida in fuoristrada perché si adegua dinamicamente alle necessità del biker e probabilmente si potrebbe usare per l'intera pedalata, non pensando neanche più a cambiare modalità di assistenza. È forse però ideale per i più esperti che sanno gestire al meglio la spinta sui pedali perché se viene usata diciamo con entusiasmo può consumare in fretta la batteria. Ovviamente la BH X-Step ha una marcia in più da questo punto di vista perché è dotata di una, energicamente parlando, enorme batteria da 720 Wattora che permette di superare i 2000 metri di dislivello con un'unica carica. Come per altre e-bike con sistema Shimano troviamo comodo il comando sottomanubrio e ben leggibile il display ma è meno pratico il conseguente obbligatorio uso di un comando sopramanubrio per il reggisella telescopico che finisce per essere un po' lontano dalla mano e costringe un movimento meno comodo e veloce. La maneggevolezza della BH X-Step rimane un tratto distrittivo della bici anche nella guida in discesa. Ci si può quasi rilassare alla guida della BH nel senso che la bici restituisce una grande sicurezza e un facile controllo in ogni situazione. La forcella è più che adeguata, precisa e rigida al punto giusto e con una capacità ammortizzante che unisce un ottimo sostegno e un buon assorbimento degli urti più o meno grandi. L'idraulica grip della forcella Fox non è delle più sofisticate ma svolge molto bene il suo lavoro. La sospensione posteriore è sempre attiva e indipendente e lavora bene anche sui terreni più sconnessi e sugli impatti più importanti con una progressività ben tarata per gestirli al meglio e con un'ottima risposta nei rilanci e in frenata in cui mantiene sempre il grip a terra. Le gomme plus che hanno ormai trovato nelle e-bike il loro utilizzo migliore sono una sicurezza in più e garantiscono un bel grip. Come molte gomme plus la guida è forse un po' meno precisa ma la BH X-Step è una e-bike in grado di gestire bene e perdonare anche piccoli errori di traiettoria. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividetelo sui social con i vostri amici e non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per sapere quando pubblicheremo un nuovo video. A presto con il prossimo test su MTB Test Central.